Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti contro le mascherine dice ormai sono inutili, l'effetto sarà addirittura negativo. Per il virologo il sistema è andato in tilt, la politica prende decisioni ignorando gli esperti. La proroga dei protocolli di sicurezza anticontagio per dipendenti privati che prevede tra l'altro la mascherina ancora obbligatoria in uffici, nelle aziende e anche all'aperto è l'ennesima dimostrazione che i provvedimenti riguardanti l'ambito sanitario oggi in Italia non vengono presi dagli esperti e dai medici ma dalla politica. Caro Bassetti mi permetto di ricordarle che da sempre, dall'inizio della pandemia, i provvedimenti le decisioni sono state politiche, il decisore politico è quello che decide, aveva deciso la politica di instaurare il comitato tecnico scientifico ma era solo consigli, consigli non vincolanti. A volte la politica ha ascoltato, a volte no, guardate le zone di Nemboro e Dalzano che non sono mai, non è stato seguito il consiglio degli scienziati e poi è successo quello che è successo. Dice e poi aggiunge Bassetti di questo passo per superare le limitazioni che ci ha imposto il covid e ci vorranno dieci anni, altro che ritorno alla normalità, dice Bassetti che è il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino Campanaro di Genova in un'intervista al quotidiano Libero dove dice il nostro sistema è andato in tilt come un flipper impazzito, così non ne usciamo. E' il solito pasticcio, dice, un esempio banalissimo però terra terra, prenda uno che di mestiere aggiusta le caldaie, è un lavoro importantissimo, magari gli capita di andare in una casa privata e allora si scopre la faccia con una FFP2, ma subito dopo ha una chiamata urgente in una scuola dove non è obbligatorio indossarla. Qual è la ragione di tutto questo? Non si ottiene proprio niente adesso a maggio del 2022 a proseguire con l'obbligo delle mascherine nei luoghi di lavoro privati e le dirò di più. Se avremmo qualche conseguenza sarà in negativo. A continuare su questa linea il rischio è che questi strumenti di protezione individuale verranno visti come un qualcosa di vessatorio. in poche parole li stiamo svilendo senza contare che la gente perderà fiducia nelle istituzioni sanitarie, dice Bassetti. Quando la bella stagione finirà e forse avremo bisogno di dover fare una dose di vaccino in più o di mettere in campo altre misure per contrastare il virus, la maggior parte degli italiani potrà pensare ancora? Ma come? Ci hanno costretto a mettere le mascherine quando neanche serviva e ora che cos'è cambiato? Dice Bassetti. Lo vogliono capire una volta per tutte i nostri politici che a continuare a battere il tamburo su questa tiritera eccessivamente precauzionista non sarà solo la nostra salute psichica a pagarne il conto, ma anche l'economia nazionale. Ma l'economia nazionale ha già pagato il conto, sta pagando il conto, perché tutte le restrizioni hanno portato a una specie di sanzione, cioè l'Italia si è autosanzionata con il covid, queste le realtà. Poi si è scoperto che le sanzioni realmente, le sanzioni, le restrizioni non servivano a nulla. Degli studi hanno dimostrato che paesi con restrizioni e paesi senza restrizioni il covid ha fatto lo stesso identico decorso, non è cambiato assolutamente nulla. Dobbiamo dire che quelle con le restrizioni hanno avuto una diminuzione dei contagi pari allo 0,1, 0,1 che statisticamente significa nulle, è un effetto nullo. La unica cosa certa che ha portato le restrizioni sono la distruzione di parte dell'economia. Quindi l'effetto negativo delle restrizioni c'è già stato, ha portato al fallimento molte, molte aziende e ha messo molte persone in mezzo a una strada. Matteo Bassetti dice che la responsabilità di tutto questo è di Roberto Speranza, che da due anni fa queste scelte. E l'ennesima dimostrazione dice che i provvedimenti riguardanti l'ambito sanitario oggi in Italia non vengono presi dagli esperti, dai medici, ma dalla politica. Beh, insomma, diciamo che Bassetti ha avuto un cambio di visione su questo. Ha cominciato super governativo, nel senso che lui spalleggiava qualsiasi cosa dicesse il governo, tutto veniva assecondato da Bassetti, che si era autoproclamato un sostenitore delle scelte del governo. Forse così pensava di essere, non so, fatto ministro, che non lo so, o semplicemente gli piaceva essere riconosciuto come uno che aiutava il governo. Oggi, quasi a fine pandemia, ha cambiato diametralmente posizione ed è diventato il medico contro il governo. C'è da dire che il fatto di essere al fianco del governo lo ha solo portato ad avere la scorta, perché molta gente se l'è presa con lui. Hanno visto in lui il cattivo. Adesso lui sta un po' cercando di recuperare facendo l'antigoverno, ma chi gli aveva dato quell'etichetta non gliela toglie più. Purtroppo è così. Come si dice in Sicilia, fatta fama evacurcati. Cioè, fatta la fama, puoi andare a dormire, che tanto non te la togli più. L'etichetta è difficile. Facile mettere l'etichetta alle persone, ma poi non te le togli più. Non se le toglie più le etichette. E diciamo che poi lui dice che siamo rimasti gli unici ormai in Europa. Mi sono appena arrivate delle foto di Euro Disney Parigi e distinto le ho confrontate con quelle che circolano di Gardaland. C'è da rimanerci impressionati. Nel primo caso ci sono file chilometriche e tantissime persone. Nel secondo no. Lo vogliono capire una volta per tutte i nostri politici che a continuare a battere questo tamburo si distrugge solo l'economia. Dice, la responsabilità di tutte queste scelte è unica. È il ministro della salute Roberto Speranza che da due anni a questa parte non cambia registro. Basta, la gente stufa. Ma lei ce l'ha con Speranza? No, assolutamente no. Non ce l'ho con lui. Ce l'ho con la sua visione che è una declinazione di obblighi per un pericolo perenne. È sbagliata. Quindi Speranza è declinato a un pericolo perenne. Non la N dell'alfabeto, no? Perenne. Vabbè. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci.